Voghera di mezzo ai posti destinati ai pazienti covid in rianimazione, la notizia è emersa con la diffusione da parte dell'ex azienda ospedaliera pavese di una nota in cui dà conto del nuovo assetto dell'ospedale cittadino che già la scorsa settimana aveva ridotto considerevolmente i posti letto dedicati ai pazienti positivi al nuovo coronavirus. In considerazione dell'attuale trend della curva epidemica, scrive a SST Pavia, si comunica la chiusura dei posti letto dell'area covid presso la rianimazione e la riconversione di tutta l'area in non covid con sei posti letto. Passano inoltre da sei a quattro posti quelli dedicati ai pazienti covid nella seconda divisione di terapia intensiva dell'ospedale, quella cardiologica. In sostanza i posti per i malati gravissimi passano in totale da nove a quattro unità. Dopo la chiusura del reparto covid all'ospedale di Broni Stradella si tratta dunque di un ulteriore segnale che, anche se l'emergenza non può dirsi finita, la situazione sembra perlomeno più in discesa. Con le modifiche adottate, l'attuale capacità ricettiva complessiva dell'ospedale di Voghera per pazienti covid risulta essere di 59 posti letto, di cui ad oggi 42 occupati. In totale nei tre ospedali di SST che stanno fronteggiando la pandemia, oggi sono 128 pazienti in cura, uno in meno di giovedì. Calo più marcato invece al Policlinico San Matteo di Pavia dove nelle ultime 24 ore si contano 77 pazienti ricoverati, 5 in meno del giorno prima.